Chiude stasera alle 20 alla fortezza da basso la mostra internazionale dell'artigianato che nel pomeriggio ha fatto registrare il tutto esaurito all'interno dei padiglioni e dei piazzali esterni. Produzioni artigianali da tutto il mondo a cui quest'anno si è aggiunta la ricca presenza di produzioni enogastronomiche d'eccellenza italiane ed internazionali e la sezione Digital Makers che per il secondo anno consecutivo ha mostrato le infinite proprietà e potenzialità dell'artigianato digitale con largo seguito da parte dei più giovani. Soddisfazioni da parte degli 800 espositori. Il successo della mostra che chiude a quota 137.000 visitatori testimonia come il saper fare l'alta artigianalità riesca a mantenere inalterata la sua forza di attrazione e il suo appeal.